Credo che sia interessante anche sapere quali sono le valutazioni di Alemão. Allora, la tua impressione su tutto quello di cui stiamo discutendo? Una sentenza passata praticamente in giudicato, che viene ripresa, diversamente argomentata. Qual è il tuo pensiero? Secondo me è normale che adesso, già che il Napoli ha due punti sul Milo, si discuta questo fatto, quell'episodio di prima contro l'Atalanta. È normale, già tutti quanti lo aspettavo, perché se il Milo non andasse indietro di noi, secondo me non si parlava neanche. Adesso il Napoli ha dimostrato di essere una squadra in condizione di vincere, in condizione di arrivare in finale. Peraltro avendo impresso nelle ultime domeniche un'accelerazione formidabile, avendo ritrovato i suoi uomini migliori, te compreso. Il discorso è che non siamo avanti nel Milo per quel punto che abbiamo preso o che abbiamo vinto sull'Atalanta in quella maniera. Quello lì ha fatto giustizia, era una cosa corretta. Siamo a due punti. E se c'era anche quel punto che nessuno ha visto del gol del Bologna contro il Milo in quella partita, eravamo a tre punti. Non c'era bisogno di questo punto. Il discorso è che adesso stiamo discutendo, del discorso che ormai è finito. Io ho fatto il mio dovere, ho giocato. In quel momento veramente non me la sentivo di continuare perché è successo quell'episodio, sono uscito. Adesso stiamo parlando. Secondo me, quello che ha detto, dobbiamo sapere anche perdere. Il Milo, secondo me, ha fatto una stagione bellissima, una stagione che è arrivata in finale in tre. Stupenda, in Coppa Campioni. Stupenda, è arrivata in finale in tre campionate. Ma che c'è da dire? Non puoi vincere tutti i tre, una puoi sbagliare. È un peccato che hai sbagliato sul campionato. E siamo noi lì. Però comunque è una grossa squadra, è dimostrato di essere. Però se non la sai vincere mi dispiace. Però non è quella squadra che tutti quanti lo pensano. Non ti perdona il successo del Milan, nemmeno quello del Napoli. Evidentemente Aldo, io darei la linea a Barriale, se sei d'accordo.